Aveva redatto un curriculum falso facendosi assumere alla maschio Gaspardo di Campodarso e così ingannando l'azienda aveva ottenuto un posto da dirigente. Falsi informazioni su titoli di studio, esperienze professionali, le bugie però hanno le gambe corte. Quando i capi se ne sono accorti l'hanno licenziato denunciandolo, un lavoratore 52enne trevigiano è stato condannato in appello ma ha voluto ricorrere alla Cassazione che alla fine ha dato ragione alla maschio Gaspardo. Per quella posizione la ditta aveva chiesto requisiti precisi. Per la Suprema Corte la prestazione lavorativa fornita avrebbe comportato anche un danno economico per l'azienda ed è stato stabilito che l'uomo dovrà pagare ora una multa di 5.000 euro.